L'Avis della zona 4 organizza una serata informativa venerdì sera a Clusone. Scandella, di cosa si parlerà? Si parla di sangue di cordone ombelicale, è un dono che non va sprecato, sicuramente perché chi l'ha dato, Dio l'ha dato, sicuramente è ricco di cellule staminali e le cellule staminali guariscano chi ne ha bisogno più di noi, sicuramente. Allora, venerdì sera a 11 alle ore 21 presso l'auditorium dalle scuole primarie di Clusone in Via Roma e c'è questa serata di informazione, i relatori sono l'ostetrica Elisabetta Valoti che parlerà soprattutto di cordone ombelicale, Dottor Gianmario Cataneo, dirigente biologo della Sismi, il Dottor Oscar Bianchi, Presidente Avis Provinciale, farà una relazione sul progetto del cordone ombelicale. Il progetto del cordone ombelicale è stato fatto dall'Avis Provinciale, oltre al Provinciale questo progetto è stato fatto da Regione Lombardia, Ospedaleria Uniti di Bergamo, azienda ospedaliera Bolognini di Seriate, sicuramente è un buon progetto, è una serata informativa, vi aspetto numerosi, vi raccomando, grazie. Gonella, come mai una serata sul cordone ombelicale? Da molti anni in Italia gli ammalati di leucemia, di mieloma e linfoma potevano guarire solo con il trapianto di midollo osseo. Questo naturalmente avveniva da una persona vivente. Le probabilità di successo però, come capite, erano molto basse, erano bassissime, per cui era quasi impossibile trovare il donatore compatibile con l'ammalato. E questo avveniva naturalmente, mediante la ricerca, in banche dati gestite da organismi nazionali e internazionali. Da qualche anno a questa parte hanno scoperto che nel cordone ombelicale ci potevano essere delle cellule staminali che potessero sopperire, e addirittura guarire queste patologie che ho precedentemente detto. E quindi si è sviluppato questo nuovo importante fronte, cioè la ricerca e la donazione di sangue da cordone ombelicale. Da un'idea del nostro Presidente Provinciale Bianchi, come ha ricordato Scandella, è nata l'idea di ottimizzare e di aumentare questa possibilità. E quindi il suo progetto l'ha portato alla Regione Lombardia che l'ha finanziata unitamente appoggiandosi agli ospedali riuniti e agli altri ospedali della provincia. L'Avis è il centro che ha un bacino di 35.000 donatori e come attività donazionale credo che praticamente non poteva partire che dagli soci Avis e dai suoi familiari. Sempre nella serata verrà poi spiegato abbastanza in dettaglio tutte le varie operazioni pre-parto e post-parto. Ricordo anche che da quando è partita questa iniziativa a Bergamo sono state raccolte 800 unità di sangue. C'è anche da considerare che dopo sei mesi però avviene un controllo nuovo per cui le 800 saranno sicuramente diminuite. Comunque direi che il progetto va a gonfie vele. Noi siamo orgogliosi come Avis di essere praticamente i primi oltre che in Lombardia anche in Italia. Perché questo progetto se avrà i frutti come speriamo che li abbia verrà proposto anche nelle altre province della Regione Lombardia e anche in tutta Italia.